Gentile Presidente, gentili deputate e gentili deputati, l'evolversi della situazione epidemiologica in questi ultimi giorni ha reso necessaria l'adozione urgente di un ulteriore DPCM, volto a integrare quello precedente adottato il 13 ottobre con l'introduzione di ulteriori misure di natura restrittiva al fine di contenere quanto più possibile il contagio in presenza di una recrudescenza del virus ormai in atto da alcune settimane. In ragione dell'urgenza del repentino aggravamento della situazione non è stato purtroppo possibile illustrare in via preventiva in Parlamento lo schema del provvedimento. Ho quindi informato il Presidente delle Camere, preannunciando loro la mia intenzione di venire a riferire tempestivamente il contenuto delle misure adottate ai sensi della previsione dell'articolo 2, quinto comma del Decreto Legge numero 19 del 2020. Prima di riferire sulle misure adottate, desidero illustrare le ragioni che hanno indotto il Governo ad assumere queste determinazioni la razio sottesa al complesso degli interventi. Innanzitutto voglio sottolineare che nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia non abbiamo mai abbassato la guardia. L'Italia è stata, lo ricordiamo, la nazione che per prima con coraggio, con determinazione ha scelto di assumere misure molto rigorose sino al lockdown e ancora è stato il Paese, è stata il Paese più prudente nelle riaperture. Più volte in Parlamento e in precedenti comunicazioni abbiamo sottolineato che nonostante i tanti passi in avanti fatti non potevamo e non dovevamo considerarci in un porto sicuro, mentre nel mondo e ai nostri confini il contagio si moltiplicava per numero ed estensione territoriale. Siamo consapevoli che i cittadini ancora una volta si chiedono sacrifici, rinunce, limitazioni alla loro ordinaria condotta di vita con particolare riferimento alle relazioni di comunità. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione di bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali con l'obiettivo di individuare il punto di equilibrio che nell'assicurare alla salute e alla tutela più intensa comporti il minor sacrificio possibile degli altri diritti fondamentali pure coinvolti. I principi che muovono oggi l'azione del governo e il contenimento del contagio sono sempre gli stessi sono quelli che ci hanno consentito di superare efficacemente la prima ondata della pandemia massima precauzione, adeguatezza, proporzionalità nella prospettiva della prioritaria tutela della vita e della salute dei cittadini che è, è giovane ribadirlo, presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti. L'esperienza di questi mesi ci ha anche dimostrato che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio anche il tessuto produttivo del Paese. Se ci pensate sarebbe stato impossibile preservare la produzione e tutelare il tessuto economico trascurando la salute dei cittadini. L'intenso lavoro svolto con il coinvolgimento dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico che ancora una volta desidero ringraziare pubblicamente a nome di tutta la comunità nazionale la responsabile partecipazione di tutte le parti sociali associazioni di categoria, associazioni sindacali ci ha consentito di definire le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo è stato un passaggio fondamentale perché la correttezza di questa scelta che rivendico come decisiva nella strategia di contrasto alla pandemia è stata anche confermata dai dati economici di quest'anno che al momento risultano più confortanti delle attese. La nostra economia sta dimostrando un'elevata resilienza come dimostrano sia la caduta del PIL nel secondo trimestre che appare più contenuta rispetto a quella di molti partner europei sia gli indicatori economici relativi al terzo trimestre che si prospettano decisamente positivi. Parlo che la decisione ci consente al momento di evitare chiusure generalizzate, diffuse su tutto il territorio nazionale di pervenire all'arresto delle attività produttive e lavorative alla chiusura delle scuole e di tutti gli uffici pubblici. La strategia per contrastare questa seconda ondata di contagio non può essere quindi la stessa adottata in primavera anche per le conoscenze acquisite in questi mesi per le prassi virtuose che fanno parte della nostra esperienza quotidiana. L'Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo anche se anche questa situazione si sta rivelando molto critica. All'inizio, lo ricordiamo, non disponevamo dei mezzi, mascherine, test diagnostici, terapie intensive sufficientemente capienti per contrastare questo nemico invisibile e insidioso. Non eravamo neppure a conoscenza, se non vagamente, delle procedure di base per affrontare questa sfida. Oggi siamo più pronti, grazie al lavoro, al sacrificio di tutti. L'elenco per soffermarmi in ringraziamenti personalizzati sarebbe molto lungo. Permettetemi però di ringraziare ancora una volta tutti gli operatori sanitari che sono in prima fila in questa dura battaglia. E permettetemi di ringraziare anche le donne, gli uomini della protezione civile, in particolare il capo dottor Borrelli e il commissario dottor Arcuri, che sono costantemente impegnati, totalmente assorbiti dai loro compiti, ormai da tanti mesi. Abbiamo sin qui distribuito più di un miliardo tra mascherine, tute, guanti, camici, ventilatori e maschere dell'ossigeno. I nostri piani prevedono il raddoppio dei posti in terapia intensiva e subintensiva. Il personale sanitario è stato aumentato di ben 34.000 unità, senza considerare la cresciuta capacità di tracciamento, contenimento e di esecuzione e dei test diagnostici. Attualmente produciamo 20 milioni di mascherine chirurgiche al giorno. A breve arriveremo a produrne e distribuirne 30 milioni. Stiamo parlando sempre di mascherine chirurgiche al giorno. Già oggi siamo uno dei pochi, e non azzardo a dire l'unico solo per cautela, Paesi al mondo in grado di distribuire gratuitamente, giornalmente, una mascherina chirurgica per ogni studente. Distribuiamo anche 7 milioni di mascherine chirurgiche agli ospedali, alle residenze per anziani e alle forze di polizia. Abbiamo investito miliardi su trasporti, scuole, università, uffici pubblici per garantire condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, di studio, adottando protocolli che tutelino studenti e lavoratori e li pongano in grado di proseguire nelle ordinarie attività. Ecco, questo immanue lavoro svolto ci spinge oggi ad affrontare con una strategia diversa la pandemia, concentrando l'attenzione a livello nazionale esclusivamente su quelle misure volte a limitare le condotte, i comportamenti più direttamente riconducibili alla sfera delle relazioni sociali e ricreative, attualmente veicolo, ce lo segnalano le evidenze epidemiologiche, di maggiore diffusione del virus. Ovviamente ci manteniamo vigili, flessibili, per valutare la curva di questi giorni che rivela sempre costante criticità. A livello regionale, tuttavia, bisogna mantenersi anche pronti a intervenire in base all'assetto definito dal Decreto Legge numero 125 del 2020 per modulare in senso più restrittivo le misure, qualora in base alla progressione del virus si verifichi una situazione di particolare criticità in specifiche aree della regione. La regione, infatti, le regioni, per contrastare la maggiore diffusione del contagio possono introdurre misure ulteriori rispetto a quelle disposte a livello nazionale del DPCM in conformità ai criteri previsti dei provvedimenti del Governo e comunque d'intesa con il Ministro della Salute e il Ministro Speranza qui presente. Tanto più in questa fase ritengo fondamentale, direi decisivo, il massimo coordinamento tra i diversi livelli di governo secondo un metodo ispirato alla collegialità, alla necessaria condivisione delle scelte, le quali, seppur differenziate per adattarsi al mutevole e erratico andamento del contagio, devono comunque preservare i caratteri di omogeneità, di coerenza, per non smarrire la razza unitaria dell'intervento all'emergenza. E quindi in questi giorni, in questi ultimi giorni, vi sono già alcune regioni che hanno promosso la procedura per pervenire a misure più restrittive rispetto a quelle contenute del DPCM. Al momento si è concluso l'Ite per la regione Lombardia, si sta concludendo quello per la Campania, c'è stata anche la regione Lazio, adesso non le sto a indicare, ma diciamo molte regioni si sono già attivate per introdurre queste misure più restrittive. L'efficacia della risposta resta in ogni caso affidata alla responsabilità individuale di ciascun cittadino, alla responsabilità collettiva dell'intera comunità nazionale. Questo lo dobbiamo rimarcare. Al di là delle misure restrittive adottate, tanto più sarà rigoroso il rispetto delle prescrizioni da parte di ciascun cittadino, da parte di ciascuno di noi, tanto più efficace sarà il contenimento del rischio di contagio. È più possibile superare questa seconda ondata con il minor sacrificio per il Paese. Dobbiamo sforzarci tutti di ridurre le occasioni di contagio, di evitare spostamenti non più necessari, attività superfie che potrebbero generare il rischio. Se saremo disposti oggi ad affrontare questi piccoli sacrifici, domani riusciremo ad evitare interventi più rigorosi e quindi più penalizzanti. D'altra parte sono stati soprattutto il senso di responsabilità, la consapevolezza di condividere un comune destino a consentirci, nella fase più acuta, quella più imprevedibile della pandemia, di vincere la prima battaglia, di ritornare con anticipo anche rispetto al previsto, alle abitudini di vita a noi più care. Io sono fiducioso che anche questa volta l'intera comunità nazionale saprà esprimere, come è già accaduto in occasione della prima ondata, la serietà, la forza d'animo, la determinazione necessaria a superare la difficile sfida che stiamo vivendo e che sono state anche sottolineate e apprezzate a livello internazionale. Il DPCM che ho firmato domenica sera, frutto di un intenso dialogo tra Ministri, Forze di maggioranza, Comitato Tecnico Scientifico, Regioni e Enti Locali, integra e completa il precedente decreto del 13 ottobre, con il quale erano già state introdotte misure specifiche di contenimento. In particolare ricordo l'obbligo di regare con sé sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, salvo specifici casi. Per quanto riguarda la vita di reazione, il DPCM del 13 ottobre aveva già previsto alcune limitazioni. Le ricorderete, il divieto di feste al chiuso, all'aperto, ad eccezione di quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose per le quali è previsto il limite di 30 persone. La raccomandazione, ma direi forte raccomandazione, di evitare feste nelle abitazioni private, di astenersi a ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6. Le attività di ristorazione, salvo limitate eccezioni, sono consentite con alcune limitazioni che variano in base alla modalità di consumazione. Per contenere la vita notturna, dove spesso si verificano situazioni di assembramento estremamente pericolose, il DPCM prevede la possibilità, dopo le ore 21, di chiudere strade o piazze nei centri urbani. Su questo tema abbiamo anche fugato le preoccupazioni legittimamente espresse dai sindaci, i quali temevano di non poter disporre di risorse di polizia adeguate a garantire l'efficacia dell'intervento di chiusura. Per questo è stata predisposta a parte del Ministro dell'Interno, della Ministra Lamorgese, una direttiva indirizzata ai prefetti che assicura in accordo, in coordinamento delle autorità locali, la piena operatività alla misura. Come ho già ricordato, le attività scolastiche continueranno in presenza. Non possiamo permetterci che uno dei principali assi portanti del Paese, dove sono riposte le migliori garanzie di un futuro migliore, possa subire ulteriori sacrifici. Lo dobbiamo all'impegno sin qui riposto dai nostri dirigenti scolastici, dai nostri docenti, dal personale ATA, che pur in condizioni difficili hanno garantito, nel periodo anche più duro, la continuità didattica, sperimentando nuove, talvolta inesplorate, attività di insegnamento. Lo dobbiamo alle famiglie, lo dobbiamo soprattutto ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, che non possiamo lasciare privi del valore di un'esperienza irripetibile di formazione culturale e umana che si realizza nella scuola, attraverso un'offerta didattica che presuppone e integra quale tratto caratterizzante la fondamentale relazione interpersonale. Solo per le scuole secondarie di secondo grado sono previste modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica. E la Ministra Zolina presiderà perché questo avvenga che contemplano ingressi degli studenti scaglionati a partire dalle nove con possibilità di ricorrere anche ai turni pomeridiani. Per quanto riguarda la formazione superiore, invece è stato previsto che le università di concerto con il Comitato Universitario Regionale di Riferimento predispongano in base all'andamento del quadro epidemiologico piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione alle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Quanto alle attività sportive da contatto oltre alle attività a livello amatoriale già interdette con il DPCM del 13 ottobre è stata disposta l'attività direttantistica di base salvo per quest'ultima agli allenamenti individuali. Sono inoltre evitate le sagre le fiere locali restano invece consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionali. Sono consentite le attività convegnistiche quelle congressuali purché si svolgano in modalità a distanza. Anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è previsto che le riunioni si svolgano in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni. La Ministra per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone lunedì scorso ha emanato un decreto che stabilisce il ricorso allo smart working in misura superiore anche al 50%. Siamo consapevoli che ad alcune categorie mi riferisco soprattutto al settore dei bar e ristoranti cui rappresentanti peraltro ho voluto incontrare all'indomani dell'emanazione del DPCM del 13 ottobre chiediamo ulteriori sacrifici. a riguardo assicuro l'impegno del governo ad adottare misure di sostegno mirate a vantaggio di queste categorie produttive più duramente colpite e a tal fine con la prossima legge di bilancio del 2021 il governo intende porre in essere una strategia che pur agendo con una prospettiva di medio e lungo periodo non trascuri anche misure immediate in una fase ancora critica della congiuntura economica il paese ha bisogno di ossigeno per poter tornare a correre e ridurre al massimo l'incertezza in generale la manovra mira a tutelare la stabilità economica del paese attraverso il mantenimento di un consistente stimolo fiscale alla nostra economia questo significa che non prevediamo nessun aumento delle imposte in un decreto legge dedicato abbiamo previsto la proroga fino all'inizio del nuovo anno della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell'agente della riscossione allo stesso tempo proroghiamo agli inizi del nuovo anno anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate anziché 5 inoltre nella legge di bilancio prevediamo un fondo da 4 miliardi di euro per il sostegno delle attività maggiormente colpite dalla crisi come ad esempio il settore del turismo della cultura dello spettacolo della ristorazione i contacolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile in questa fase di smettere la rete di protezione disposta sin dall'inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese per tale ragione rifinanziamo con 5 miliardi di euro un ulteriore ciclo della cassa integrazione prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata allo stesso scopo viene stesa la durata della moratoria sui mutui viene rifinanziato il fondo centrale di garanzia per erogare prestiti alle piccole e medie imprese viene anche rafforzato l'intervento di SACE con garanzie pubbliche a sostegno delle medie e delle grandi imprese viene prorogata l'estensione temporale delle misure di sostegno alla patrimonializzazione piccole e medie imprese all'interno del quadro temporaneo quello europeo in materia di aiuti di Stato anche nel settore dei trasporti interverremo con misure mirate e adeguate a fronte dell'oggettiva difficoltà di conciliare la massima copertura possibile per il trasporto pubblico con il rispetto alle norme di distanziamento interpersonale in particolare a seguito della ripresa della scuola che come ho già ricordato costituisce per il governo una priorità assoluta abbiamo stanziato per un ulteriore potenziamento del trasporto scolastico 350 milioni di euro aggiuntivi per il 2021 in favore di regioni e comuni la manovra ci consente di gettare lo sguardo anche al medio e lungo periodo di erigere i pilasti necessari a ricostruire il nostro potenziale di crescita e di sviluppo sociale per conseguire un vero rilancio della nostra economia è imprescindibile incrementare la partecipazione al lavoro parlo in particolare al lavoro mi riferisco al lavoro delle donne dei giovani favorire la natalità rendere più eco più efficiente il nostro sistema fiscale massimizzare lo sforzo economico e normativo a sostegno degli investimenti nel disegno di leggi di bilancio abbiamo affrontato ognuna di queste priorità in questi giorni ancora nelle prossime settimane dovremo rimanere ben concentrati sul contenimento del contagio siamo ben consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto circola tra noi siamo ancora dentro la pandemia il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l'attenzione altissima stavolta forte l'esperienza della scorsa primavera dobbiamo adoperarci rimanendo vigili prudenti pronti a intervenire nuovamente se necessario il governo continuerà a mantenere costanti anche l'interlocuzione con il Parlamento quindi mi predispongo a raccogliere tutti i suggerimenti le stanze che scaturiranno dagli interventi che seguiranno riferendone tempestivamente anche i ministri che adesso non sono presenti il governo continuerà a dialogare poi in particolare con spirito di leale collaborazione con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali per gestire questa fase dell'emergenza questa collaborazione sarà davvero indispensabile per poter venire a capo di questa ulteriore sfida anche perché è necessario come ha sottolineato il presidente della Repubblica l'altro giorno il coro sintonico delle nostre istituzioni e delle loro attività che solo può condurci a superare queste difficoltà in modo da perseguire quindi una strategia condivisa responsabile efficace grazie grazie